Una serata speciale che ha messo al centro l'amore per gli altri, riuscita la dodicesima festa del gelato al cioccolato organizzata ai tre scalini di San Salvo Marina, un'iniziativa voluta dai titolari la famiglia del piccolo Luigi Occhionero, uno dei 27 bambini morti insieme alla maestra Carmela Ciniglio nel crollo della Scuola Iovine di San Giuliano di Puglia. Il 16 luglio ricorre il suo compleanno e questa giornata è dedicata a lui e a tutti i bambini, in particolare quelli che hanno bisogno di tutto. Per questo motivo il ricavato della festa tra decine di gusti singolari di gelato al cioccolato è stato devoluto all'Associazione Vita e Solidarietà Ollus per continuare un progetto di solidarietà concreta e condividere il senso dell'amicizia di un rapporto speciale con uno dei paesi più poveri del mondo. Il contributo servirà per completare le attrezzature del repatto di pediatria del dispensario di Mpasa in Kinshasa, Congo, dove tra le altre cose è stata realizzata una sala parto intitolata al piccolo Luigi. L'associazione guidata con amore e dedizione da Ottavio Antenucci assicura il suo impegno grazie all'aiuto di tutti gli amici, a tanti bambini e famiglie dell'Africa, un territorio, quello di Mpasa, dove serve tutto anche per assicurare un pasto con la farina di manioca e preparare il fufu, un nutrimento giornaliero e più importante per i congolesi. Nel corso della serata applausi per la corale pop Warm Up di Vasto, diretta dal maestro Alessandro Bronzo e ancora clown e truccabimbi dell'Associazione Rico Clown che hanno agliettato la giornata. Per Michele e Giulia, insieme ai figli Giuseppe ed Elena e tutto lo staff della gelateria aperta l'indomani del sisma di San Giuliano, una giornata speciale per condividere un progetto di solidarietà e amicizia.